riccardo davanti a me tre bellissime triglie altri ingredienti vedo un po di colore rosso quella cosa prepariamo oggi il colore rosso predomina forse predominerà anche nel vino ma comunque guarda ho pensato di fare una triglia avvolta nel pane con delle cozze alla marinara dove prevede una lunga preparazione io mi sono un po portato avanti e degli scalogni marinati agrodolce con una punta di agro e una punta di dolce e una salsa di lattuga di mare lattuga di mare darà quella nota di armonia poi a tutto il piatto io se vuoi inizio a farti vedere assolutamente fammi vedere tutto è anche bellino poi da rifare a casa è un piatto molto sfizioso la saliamo leggermente perfetto un po di succo di limone benissimo proprio un vero, succo di limone puro, proprio un vero, una piccola marinatura ma anche una leggera precottura perché poi questo lo chiuderemo così a panino per ridargli proprio la forma poi ho preparato questo pane in cassetta che è così una sfoglia sottile proprio del pane in cassetta quello che si usa per fare per fare i sandwich viene passato alla macchina per fare la pasta ma se uno non ha la macchina per fare la pasta può farlo tranquillamente anche con un mattarello lo richiudiamo su se stesso vediamo poi questa forma perfetto olio extravergine d'oliva padella calda lo metto dalla parte dove c'è la chiusura in modo che si salderà perfettamente benissimo nel frattempo ho preparato una zuppa di pesce che è una preparata in maniera molto molto classica i ritagli della della zuppa che possono essere comunque gallinella scorfano pesce paranza quello che uno più piace lì si può davvero sbezzarire la parte che magari non tutti sanno che quando si va a frullare bisogna passare questa zuppa al passaverdure in modo che tutte le lische si si minimizzino e venga fuori questa polpa di e infatti notavo proprio un po la consistenza la densità il fatto di avere una zuppa così densa poi ci permette di poterla magari anche poi aggiungere alle cozze alla marinara che ho già preparato dove apriamo queste cozze che sono aperte solo con acqua prepariamo questo fondo con la base di capperi buccia di limone pomodorini canditi per non usare un francesismo confit dell'olio d'oliva un po di polvere di cumino e dell'aglio ok noi mischieremo poi tutto insieme e ci darà questa questa freschezza che magari mancava alla alla zuppa in accompagnamento e per terminare il piatto abbiamo pensato di fare due cose di dare un po di acidità con questi scalogni marinati ecco questo come abbiamo detto prima mi interessa molto perché io adesso sto già pensando al vino da abbinare certo in effetti ti ho già confidato che per me è importante anche la parte cromatica del vino non solo per una questione puramente estetica ma c'è anche una valenza organolettica nel senso che ci sono molti ingredienti che hanno colorazioni più scure rosse per cui non dico ideale ma può essere opportuno abbinare un vino rosso e infatti prima abbiamo parlato proprio degli scalogni e lo giri solo nelle due parti facciamo sì cerchiamo di dare una una colorazione intensa unilaterale e non troppo forzata in modo che poi vedi la colorazione sia con la cultura lì l'hai proprio sigillato quindi non si apre più non dovrebbe più aprirsi non dovrebbe più aprirsi quindi dicevo gli scalogni che sono cotti sotto sale ok come si cuoceva una volta no ricoperti di sale a 180 gradi per circa un'ora e mezza sbucciati si prepara questa marinatura con aceto di vino rosso aceto di lamponi e zucchero e un po di acqua si fa prendere l'ebollizione si mettono gli scalogni ancora caldi se uno ha il sottovuoto a casa o al ristorante lo mette sottovuoto se no in un coperchio ben sigillato e li usa il giorno dopo ovviamente poi come tutte le cose in agrodolce marinate più rimani lì e più il gusto sarà intenso dunque poi per separare diciamo questa questa preparazione della zuppa alla triglia abbiamo pensato di fare una salsa di lattuga di mare no abbiamo trovato e scoperto che la lattuga di mare è un grandissimo addensante dunque invece di andarlo a cercare nella chimica abbiamo fatto questa salsa di prezzemolo che è una è un prezzemolo sbianchito delle foglie di prezzemolo sbianchite tritate con un po di succo di cottura delle cozze e la lattuga di mare il tutto frullato ci dà questa salsina di colore verde che dà un senso di verde intenso siamo pronti ti faccio vedere come impiatto ti chiedo solo qualche secondo io ho elaborato oggi aumenti una cosina e proviamo ad abbinarla il tempo di andare a prendere la bottiglia e completiamo tutto va bene grazie a tra poco sfida accettata ho scelto un rosso proviamoci bene è il Chianti di Villa Saletta un'azienda del pisano Chianti si sa grande denominazione molto ampia loro lavorano molto bene gestendo le estrazioni quindi un rosso più di freschezza più che si sviluppa sulla parte aromatica ecco perché ho pensato secondo me fa il caso nostro io stappo così lo assaggiamo insieme e tu finisci di impiattare ok poi rimaniamo in Toscana quindi rimaniamo in Toscana assolutamente ah ma guarda un po quindi salsa bella calda la nostra zuppa di pesce bella calda le nostre cozze alla marinara completiamo con tutto quello che poi ti ho già spiegato i pomodorini confì i capperi prezzemolo il limone beh che meraviglia abbiamo parlato di quanto la parte estetica sia importante qui stiamo completando tutto in maniera impeccabile e terminiamo con lo scalogno l'ultima cosa due scagliette di sale maldon favoloso posso a questo punto darti un bicchiere di vino io mi sono porato avanti almeno nella parte olfattiva nel senso che come ti dicevo è un rosso sicuramente che la sua importanza la sua struttura ma sviluppa soprattutto nelle parti più aromatiche c'è tanto frutto rosso evidentemente c'è anche un tocco speziato che secondo me riporta un po al piatto ma la cosa più convincente per me per cui ho voluto abbinare questo Chianti del 2016 praticamente tutto San Giovese c'è una piccola percentuale di Cabernet Merlot è la sua freschezza al palato tu hai parlato molto della freschezza del piatto esatto qui è tutto giocato molto sulla freschezza quindi delle estrazioni che non tendono a dare più robustezza e più corpo ma tendono più a sviluppare io dico in profondità nella parte verticale del sorso quindi sapidità il tannino appena accennato perché sennò molte volte il tannino la parte tannica soprattutto con i piatti di mare va un po' a stridere invece qui è molto delicato e poi come ti dicevo l'importante è che non copre i gusti del piatto ora assaggiamo insieme il vino e poi non rimane che assaggiare il tuo piatto certo Riccardo grazie mille facciamo un bel brindisi assaggiamo e poi verremo a trovarti alle noteca pinchiorri speriamo presto speriamo presto salute